Comincia oggi la preparazione del Catania in vista della sfida contro il Matera di domenica sera al Massimino. Due giorni per smaltire le delusioni della trasferta di Trapani, dove il Catania ha colto il risultato più pesante, forse da digerire, della sua stagione. Non tanto dal punto di vista del gioco o meramente del risultato, ma per quello che sarebbe significato vincere al provinciale ed agganciare la testa della classifica adesso saldamente al comando del Lecce. Dunque ripartire da oggi analizzando gli errori e le scelte fatte contro il Trapani. Pare bocciato infatti l'esperimento semenzato proposto come esterno d'attacco nel 4-3-3. Dunque il Catania lavora per tornare al suo assetto naturale con Di Grazia e Russotto al fianco di Curiale che si contenderà una maglia con Francesco Ripa. L'attenzione di Lucarelli e del gruppo è massima perché il Matera di Auteri non può essere sottovalutato, nonostante il settimo posto in classifica dovuto ad un andazzo ondulatorio. Perché sono 5 i punti che il Matera ha conseguito nelle 5 giornate di campionato iniziali, poi 15 conseguiti nelle successive 5 giornate ed infine 8 nelle ultime segare di campionato che ne rappresentano un'autentica mina vagante in vista del Massimino.